Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, questo è il diciassettesimo episodio della mia serie survival di Minecraft. Dallo scorso episodio ho farmato un po' di roba per conto mio, delle cose che abbiamo fatto nello scorso episodio appunto, perché abbiamo fatto, usciamo e vi faccio vedere tutto. Abbiamo fatto là la farm di kelp, cioè non è proprio una farm, diciamo è una piantagione di kelp, più o meno. Qua il cacao, che cresce a vista d'occhio, veramente. Poi qua su i bambù, guardate anche questi come crescono e pensate li ho tagliati, li ho farmati un po' per conto mio perché erano già altissimi. E poi la quercia scura, vedete no? Sono riuscito a ottenere diversi sapling, anzi ce n'è già qualcun altro qua, che non ho preso insomma dallo scorso episodio. Qui è cresciuto un albero qua, deve ancora ricrescere, però insomma questa quercia scura perché appunto ci serve. La abbiamo piantato, aspetta andiamoci direttamente. Qui abbiamo fatto un altro albero con gli standardi e qua abbiamo messo meloni e barbabietole, qua, che stanno già un po' crescendo. Sì che raga ho farmato tutta questa roba qua. Tutte queste cose che avevo piantato, cioè che avevo fatto nello scorso episodio, le ho un po' farmate, insomma ne ho ricolto un po'. E questo è il risultato solo di quello che ho fatto off camera, eh. Solo di quello che ho fatto off camera. Due barbabietole, 64 e 43 fave di cacao, due stack di kelp, due stack e qualcosa di bambù, 16 sapling e tre stack e quattro di quercia scura. Quindi andiamola a mettere nel magazzino perché poi ragazzi la quercia scura, vi ripeto, ci servirà per un edificio che voglio fare. Dove voglio mettere anche il tavolo degli incantamenti. Quindi d'ora in poi dovremmo dedicarci un pochino a preparare il tutto. Preparare la roba per, ecco qua tra l'altro c'è il canino, preparare la roba per incantare i libri, le spade, i picconi e tutto. Quindi ragazzi oggi faremo una farm di mucche che ci consentirà di avere un sacco di libri da incantare sia per fare le librerie che per fare appunto i libri da incantare. Quindi oggi faremo appunto una farm di mucche. Intanto mettiamo tutta la roba qua nel magazzino. Vediamo quanti stack abbiamo di quercia scura. E' diversi raga, eh. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei stack di quercia scura. Non so se ci basteranno, probabilmente no. Ah, poi qua abbiamo sistemato anche le cose, cioè qua c'è solo la parte della natura, vedete tutte cose della natura. E di qua parti con cose in più, se essenzialmente sì. E di qua, nei libri incantati, no, dov'è che le ho messi? Ah, qua nei cibi e bevande, vedete, qua c'è tutti i cibi e poi qua bevande, cioè le pozioni, le cose che abbiamo qua. E metteremo lì anche le altre pozioni. Intanto mettiamo qua tutta questa roba qui. Il cacao, no, questa no, il cacao, queste altre cose qua. A barbabietole, no, quelle nel cibi. Poi ricordiamoci raga che abbiamo sempre questa zappa qua con tocco di belluso. Comunque, allora, per fare la farm di mucche, che cosa ci serve? Ah, poi nei prossimi episodi dovremo anche andare in miniera e fare gli spawner, sì, gli spawner di zombie, degli spawner che possono essere usili. Perché poi quelli servono per i livelli, visto che siamo morti diverse volte e siamo abbastanza scarsi. Cioè, sono abbastanza scarso, sì, lo so, può cacare. E questi 16 livelli ci mettiamo niente a perderli. Comunque, dicevo, cosa ci serve per questa farm di mucche? Premetto che sto guardando un tutorial, perché anche io con le farm sono abbastanza scarso. Quindi sto guardando un tutorial di batti 5. Faccio pubblicità, cioè, sì, faccio pubblicità, ma non è che mi stanno pagando. Però ecco, questa farm, spero, mi possa tornare utile. Quindi, boh, ecco, sto prendendo da questo canale. Dunque, cosa serve, allora? Intanto delle scale, quindi prendiamo queste tre e poi ci facciamo una quarta, cioè altre scale perché ce ne servono quattro. Ne abbiamo sei. Vabbè, pace. No, non fate dodici, porca miseria, che stupido. Vorrà dire che le altre le rimetteremo qua. Poi delle fence, io ho queste qua di quercia, prendo queste, sono di quercia. Due bauli, io ne prendo, sì, due. Poi mi servono delle trapdoor e le facciamo con legno. Le farò sempre con la quercia, perché tanto, insomma, abbiamo questa. Poi ci servono 37 blocchi. Io, ragazzi, userei, non so se il granito o la diorite. Probabilmente il granito, cioè, non lo so, paura che poi stoni un po', io proverò a usare la diorite. Ne prendiamo un po', cioè, ci servono 37 blocchi, quindi ce li facciamo così, ne abbiamo dodici, ce li facciamo con questi. Non è poi uno spreco, alla fine, no, ne ho fatti troppi. Ma perché sono stupido, accidenti a me. Se tipo fa così, posso farli ritornare come prima, no. E vabbè, ce li teniamo così, ragazzi. Tanto la diorite a questa maniera non la utilizzeremo mai. Comunque ce ne servono 37. Poi, 7 blocchi di vetro, noi ne abbiamo 5, ma possiamo mettere tranquillamente a cuocere la sabbia, tanto ne abbiamo in abbondanza. Poi, degli scalini, a sto punto li faccio in diorite, visto che ne abbiamo tanta. Ne serviva uno, quindi, insomma, 4 sono in più. Vabbè, teniamocene uno. Poi, redstone, un po' di redstone ci serve. Prendiamo uno stack e poi la useremo per tutto. Il ferro, ci servirà anche il ferro. Poi dovremo fare degli hopper, quindi prendiamo altre ceste. Allora, le leve ci servono, come si facevano le leve? Io, ragazzi, per i crafting della redstone, cioè per i craft, come si chiamano, i cosi della redstone, insomma, sono abbastanza negato. Allora, il pulsante, ok. Questo, vabbè, è easy, basta fare così, tanto ci serve anche questo. Ce ne servono due. Quindi, ce ne facciamo due. Buono. Poi, per la redstone, allora, la leva si faceva, ecco, con gli stick. Vabbè, facciamoli, cioè gli stick ce li abbiamo, no, andiamo a prendere. Due leve. Buono. Poi, in realtà, ci servono un observer e tre, come si chiamano, non i gettatori, questi qua, i distributori. Ok, ci serve un arco. Ok, però mi sa che per l'observer ci serve il quarzo, vero? Dov'è? Allora, intanto facciamo tre tramogge. Non trovo l'observer, però, boh. Intanto, allora, per questo ci serviva l'arco, la redstone e la pietra. Ok, e ce ne servono tre. Bene, prendiamo tre arco. Se uso gli archi scassati, funziona? Funziona anche con gli archi scassati, allora, raga, cioè, perfetto. E abbiamo anche i nostri tre distributori, quello tenuto meglio, ovviamente me lo tengo per me, di arco. Poi, per l'observer, com'è che si faceva, raga? Ok, si serviva il quarzo, ho controllato adesso. Andiamo a prendere il quarzo, no, no. Io non l'avevo preso nello scorso episodio, cioè, no, nello scorso, diciamo, quando siamo andati nel nether. Tanto la quarcia scura è cresciuta. Comunque, non l'avevo preso perché volevo prenderlo con fortuna. Però, se mi costringono, facciamo un salto nel nether, stando attenti perché abbiamo... No, facciamo così. Lasciamo tutte le cose che ci servono, le lasciamo qua in questa cesta, perché non vogliamo che poi, insomma, perdiamo tutto ed è meglio di no. Quindi queste cose lasciamole qua nella cesta e andiamo a prendere il quarzo prima di dormire. Sarà un bel viaggetto. Attenzione, bisogna schivare tutti i mob che c'erano ora durante la notte, ma è disponato da solo. Mi sono dimenticato di lasciare le leve, eh, in realtà. Dovevo lasciare pure queste, eh, va. Forse un collegamento un pochino più veloce per il nether non guasterebbe. Poi raga, preparatevi perché quando avremo efficienza sulla pala, efficienza... minimo efficienza 3, distruggeremo tutta questa collina per fare una zona qua per il portale del nether, che ho già pensato a come farla. Comunque preparatevi. Via, mi sono ricordato e non ho niente di dorato addosso. Meno male che me ne sono ricordato. Poi andiamo a farci qualcosa di dorato, ci prendiamo un elmetto di quelli che abbiamo trovato durante l'esplorazione, magari. Meno male non c'erano pigli, nessuno poteva essere un problema, eh. Oh, io e raga, sta strada di nuovo. Vabbè, oh, chi non ha testa abbia gamba. Poi in realtà bisogna decidere anche dove farla questa farm di mucche. Io direi là, abbastanza vicino al recinto, almeno ce le portiamo easy. Abbiamo affinità all'acqua, respirazione 2 o indistruttibilità 2. Io direi indistruttibilità 2, sennò c'è anche protezione dalle esplosioni, che non è male, perché con i cast ci può servire. Prendiamo anche questi, vediamo quali usare. Allora, abbiamo entrambi di pelle, a questo punto mettiamoci i pantaloncini, questi li teniamo qua, e poi quando... No, però... Sì, dai, teniamocelo addosso i pantaloncini. Mi fanno morire questi conigliolini che mi guardano mentre mangio le carote, però se li do tutti a loro, cioè poi non mi rimangono per me. Ce ne basta poco in realtà, eh. Quindi io... Cioè, in realtà ci serve un observer solo, quindi io prenderei questo. Prendiamo questi, dai, sono 5, e poi... Poi bottoneremo un'altra volta a prendere altro quarzo, quanto ci servirà. Per adesso tanto ci serve un pezzettino solo, ne abbiamo 5, direi che va bene. Bene, lasciamo qua tutto il quarzo, praticamente, e ce ne teniamo uno solo, e poi, allora, come è che si faceva? C'era tipo un quarzo qua, due di redstone qua, e la pietra qua intorno, giusto? Buono, e abbiamo il nostro observer, ce ne serve uno solo, quindi... Poi ci servono un secchio di acqua e due secchi di lava, quindi ci facciamo tre secchi, uno ce l'abbiamo di giallo, lo teniamo per il latte, ce ne facciamo tre, tanto, insomma, al ferro. Per ora ce l'abbiamo. Tre secchi, andiamo a prendere la lava, non so dove prenderla, e l'acqua, un secchio d'acqua, beh. Mentre stavo esplorando per cercare una pozza di lava, ho visto che là c'è una mineshaft. Così allo scoperto c'è anche uno spawner di ragni. E poi qua, ragazzi, ho trovato due ceste, con un bel po' di roba, direi. Io direi prendiamola tutta. L'abbiamo trovato anche la name tag, possiamo dare il nome al nostro pollettino, e qua ce n'era un'altra, eccola lì. Lo chiameremo Johnny, e poi daremo un nome anche al canino, e lì, boh, consigliatemi voi come chiamarlo, perché io ancora sinceramente non so che nome dargli. Comunque prendiamo tutte queste cose qua, non abbiamo più spazio. Eccoci, potrebbe essere un problema. E vabbè, la pislazzoli sì. E queste no? Queste dove le possiamo mettere? Vabbè, no dai, però prendiamole. Al posto del lingotto d'oro, dai. Tanto non credo ci interessi quello. Ok, ci ho messo un sacco a trovarla, mentre poi era vicino, anche vicino a casa, io invece ero andato da tutt'altra parte. Comunque, no, perché l'ha lanciato? Ma che sei impazzito? Perché l'ha lanciato, raga, dai! No, scusami, io non ho pigiato Q, ragazzi, ve lo posso assicurare, non ho pigiato Q. Cioè, perché l'ha dovuto lanciare? Ma porca miseria. Ok, forse perché non avevo più spazio nell'inventario, però vabbè, ne ho fatto un altro e va. Ma ora che ci penso, raga, perché la maschina è cambiata a caso? Cioè, chi l'ha cambiata? Vi giuro è cambiata a casissimo, non so se può capitare, ma io, raga, vi giuro che non l'ho cambiata. Ma ve lo giuro, perché ora c'è lui? E me ne sono accorto solo ora, eh? Buono, andiamo bene. Comunque, raga, dovremmo avere tutto quello che ci serve. Quindi, cosa andiamo a fare? Andiamo, ovviamente, a fare la farm di mucche. Cerchiamo il posto dove farla. Allora, le mucche sono lì, il grano. Ci può servire il grano, ecco, cosa mancava. Tanto se non torno indietro, io qualche volta non sono contento. Prendiamone 36, ma ce ne può... Cioè, sì, ce ne servirebbe un po' di più. Forse, ragazzi, nel prossimo episodio potremmo fare una farm di grano. Sì, potremmo fare una farm di grano, che tra l'altro ho già trovato sempre su questo canale, dove sto vedendo la farm di mucche. Comunque, dove la facciamo? Perché un po' di spazio ci serve, eh? Non vorrei farla troppo lontana, perché poi ho paura che sia difficile portarci le mucche. O la facciamo tipo qua? Ci sta anche farla qua, forse lo spazio ce l'abbiamo, sì. Ma sì, raga, potremmo farla qua. Per che verso la facciamo? Tipo, ci lasciamo la montagna alle spalle, quindi la facciamo per così? Sì, ci sta. Magari leviamo un po' di terra da qua, che forse è un po' troppa. Cioè, leviamo un po', vedete, liberiamo un po' di spazio, almeno... Cioè, magari poi ci basta comunque lo spazio, però ecco, proprio per una cosa visiva, almeno ci sta meglio, diciamo. Si fa una roba del genere. Ora forse ne sto levando un po' troppo, però no, dai, ci sta. Sì, ecco, una roba così. Vedete, almeno abbiamo già un po' più di spazio, che poi vi ripeto, magari ci bastava lo stesso, eh, lo spazio, però... Per essere sicuri di averlo. Ora, torniamo a dormire, perché sta facendo notte, e poi cominciamo la nostra... Potremmo anche prendere adesso cacao, cioè cacao, ora non è che ci serve, ce ne serve così tanto. Potremmo però prendere la quercia scura, solo che abbiamo l'inventario pieno, e sinceramente, no, mi fa un po' fatica. Però, ecco, una cosa che ho notato è che dobbiamo piantare le barbabietole. Queste qua le possiamo piantare lì nella pianta giù. Oh, guardate qua che bello, stanno già ricrescendo, sì, però non andare... No, dove va a finire? Oi, oi. E signori, ora abbiamo ufficialmente l'inventario pieno. Certo, possiamo levare i fiori, perché tanto non ci interessano, infatti ho levato anche i semini di grano, dove sono? Eccoli là. Però abbiamo l'inventario pieno. Poi anche questi alberi di betulle poi andranno raccolti. Comunque, direi di cominciare qua a fare il nostro faro. Allora, dobbiamo fare un lavoro di questo tipo. Levare qua tre blocchi, anzi, bisogna levarne un po' di più. Bisogna fare, ecco, una roba così. Poi mettere... Perché ho così tante ceste? Ah, forse perché le avevo prese per fare gli hopper? Boh, comunque una roba così. E poi bisogna mettere gli hopper qua. Uno, due di qua e tre di qua, così. Poi piazziamo qua un observer. No, ho sbagliato. L'ho messo così. Perfetto, ora ho messo... Poi qua un pulsante. E poi ecco qua che entrano in gioco i nostri blocchi di andesite, no? Diorite. Diorite, mi confondo ancora fra Diorite, andesite e granito. Comunque, finalmente, li utilizziamo e vediamo come vengono, se sono bellini. Dobbiamo fare una roba così, metterli qua sopra, così. Vedete? Non sembra così male. Ora caruccio. Poi ci servono i dispenser e ne dobbiamo mettere uno qua, uno qua, no, messo male, e uno di qua. Correggiamo subito questo, che bisogna metterlo, non ho messo gli altri due, cioè così, ecco qua. E poi uno, due, no, allora sei stupido, eh, Machi. Uno, due, tre, ecco qua. Poi, sempre con questi blocchi, bisogna fare qua, così, costruire tipo delle pareti, così. Allora, vediamo anche negli spazi come ci sta. Non è così male, dai, sì, ci rientra abbastanza bene. Sì, 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 per ora sembra. Nasconde un po' quest'albero, però tanto qua cosa c'è? Cioè, ci sono solo questi standardi che possiamo benissimo mettere da un'altra parte, anche per dire, se qua metto altri tronchi, poi gli standardi li posso spostare, quindi pace, cioè, poi, allora, saliamo qua e facciamo un altro trato qua di muro, diciamo, no, allora sbaglio sempre, così, e poi facciamo così. Ok, abbiamo esaurito i blocchi, non dovrebbero servircene più, dovrebbe venire una roba così. Guardate però Bellino, Bellino, sembra tipo una cella frigorifera. Sarà al contrario per le mucche, perché useremo la lava, ma questi sono dei... Poi ragazzi, mi sorge un dubbio, ora servono le botole, no? Ma, dove sono le mie botole? Come mai nell'inventario non ci sono? Lo so io come mai non ci sono, perché sono stupido e le ho messe nelle ceste. Perché l'ho fatto? Non ne ho la minima idea, però ora che ci penso mi ricordo di averlo fatto, di averle messe nelle ceste. Vabbè, sono stupido ragazzi, lo sappiamo, cioè non c'era nessun motivo e io ce l'ho messo lo stesso, ma che vogliamo fare? Vabbè, guardate Bellino che è anche da lontano. Sì, 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 bellino. Comunque, cosa bisogna fare adesso? Bisogna mettere delle scale qua, delle botole sopra gli hopper, così, e poi bisogna metterle proprio in questa maniera, una così e una così, in modo che poi si aprano in questa maniera qua. sta facendo notte, sì, torniamo a dormire e poi continuiamo. Comunque sta già venendo Bellino, speriamo funzioni, anche perché per 1.19 sicché se non funziona, ragazzi, mi arrabbi. Bene, nuovo giorno, rimettiamoci all'occhio. Sapete poi che fine farete voi, vero? Tutte lì dentro, sì, 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 no, tutte no, da qualcuna si salverà anche, la saremo nel recinto quando poi faremo una stalla, però, ecco, molte finiranno sopra, però vabbè dai, non ci pensiamo adesso, poverino. Comunque poi ci serve il vetro da mettere qua, così, a questa maniera qua, perfetto. Poi, andando dietro, qua, dobbiamo rompere questo blocco qui e al posto di questo bisogna metterci un pezzo di redstone, che poi se alla fine ci serve un pezzo solo non so perché mi son portato tutto lo stack dietro, ma vabbè. Poi, qua dentro i distributori ci mettiamo due secchi di lava, uno qua e uno qua, e il secchio d'acqua lo mettiamo qua sopra, invece, qui, così. Poi mettiamo un blocco qua, in modo da chiudere. A questo punto entrano in gioco le leve, una la mettiamo qua e l'altra di qua. E poi il pulsante qua per far uscire l'acqua, vedete, se faccio così esce l'acqua e poi la chiudiamo. Poi mettiamo un blocco qua su, ok, ok, dovrebbe essere tutto a posto per adesso, dovrebbe essere finita più o meno, cioè, ora dobbiamo portare le mucche qua e poi mettere una fence qui. Però, come le portiamo le mucche? Potrebbe essere un problema. Io, raga, so già perché lo so che ci faranno dannare come non so cosa. Allora, noi apriremo qua. Le faremo salire qua sopra in questo modo. Possiamo fare tipo così, sì, dovrebbero riuscire a salire qua sopra e poi le infiliamo lì dentro. Ne prendiamo un pochine. Allora, vediamo se ce la facciamo a farne uscire solo qualcuna. Venite, un pochine, solo alcune, no, non tutte, ecco, già basta così, chiuditi, cancello, chiuditi. venite di qua. Ora andiamo a divertire. Mi seguite? Ce la fate? Venite? Che poi a dire così, cioè a dire mi seguite in questa maniera mi sento molto la mia prof di arte medievale vecchia, quella bastarda schifosa. Pingiamole piano piano, dai, ce la puoi fare, dai, una è dentro. Ora, devi entrare anche te, questa qua, è caduta di sotto, lo spinta questo, l'ho vista. Dai, entra, forza. Entra, 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 e let's go. Abbiamo due mucche. Però, già che ci siamo, portiamo anche queste, tanto insomma ce l'abbiamo. Stato, allora, diciamo già due mucche ci bastano, quindi anche se queste qua non entrassero non sarebbe tutto sto problema. Però, già portare queste due mucche è stato molto più facile del previsto, cioè di solito fanno ingrullire un monte per essere infilate qua dentro. Meglio così. Ci sarà da, da, da sclerare con i villager, cioè non qua, eh, in futuro. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Cinque mucche, è stato molto più facile anche richiudere il cancello, di solito se vengono fuori in massa si perdono tutte, invece dai, è stato abbastanza facile. Ora, l'unica cosa che dobbiamo fare per completare l'opera è fare così, mettere questa fence qua e rimuovere questo blocco di pietra. E adesso, ragazzi, dovrebbe essere tutto pronto. Scendiamo da qua, almeno ci riprendiamo anche questa pietra. Tanto adesso per salire abbiamo queste scale e ora che ci penso dobbiamo salire perché dobbiamo dare da mangiare alle nostre mucche. Quindi, cosa facciamo? Facciamo così, mettiamo l'acqua e diamo da mangiare a tutte. Così si riproducono. Bene, sono cinque in realtà, sì che mi ha dato uno di troppo, ma dettagli. Si riproducono. Poi togliamo l'acqua, così almeno, in teoria, le bestioline scendono giù. Vediamo. Eccoli lì, bellini! Vabbè, ora io dico bellini, però insomma, poverini. Vabbè, essenzialmente, cosa dobbiamo fare? A questo punto, noi continuando a far accoppiare le mucche e far cadere cuccioli qua, dovremmo aspettare, insomma, di avere un buon numero. Ricordiamoci che più di 24 non ci possono stare nello stesso blocco, diciamo, perché sennò poi muoiono. Però, appena abbiamo un numero decente di cuccioli, possiamo azionare questo bottone qua per far scendere la lava. Così, poi le mucche, insomma, bruceranno, moriranno, mi spiace dirlo così, però tanto è un gioco. I drop cadranno negli hopper e gli hopper lo porteranno, cioè portaranno i drop qua fino alla cesta, dove per adesso mettiamo questo grano momentaneamente e qua, ovviamente, cioè, se le mucche muoiono con la lava, quindi bruciate, i drop saranno cuoio e braciole già cotte, quindi non dovremo neanche perdere tempo a cuocerle, quindi la nostra farm di mucche è terminata. Prendiamo veloce questo melone qua, le altre cose le riportiamo nel magazzino, anzi, prima concludo l'episodio e poi le porto nel magazzino per conto mio, guardate qua come cresce bene, come crescono bene qua le barbabietole. Ripiantiamole subito, abbiamo già una bella pianta, ragione, raga, cioè, guardate qua, già quella che abbiamo fatto è già completa, perfetto. Tanto non credo ci servano a tanto, quindi per adesso le teniamo lì. Ragazzi, comunque la nostra farm di mucche è terminata. Sono un po' contento, dai, speriamo funzioni, ora dovrebbe funzionare, perché qua si pigia qui e la redstone che abbiamo messo dietro attiva i due dispenser che buttano la lava, quindi in teoria dovrebbe funzionare. Ricordiamoci poi che, ecco, per farla funzionare bisogna andare quassù, premere queste due leve, tipo così e così, almeno i cuccioli non cascano, diamo da mangiare alle mucche, spengiamo l'acqua, riposiamo le leve, almeno i cuccioli cascano, e ritiriamo sulle mucche con l'acqua, almeno evitano di... cioè, quando dobbiamo usare la lava, ritiriamo sulle mucche, almeno evitiamo ogni pericolo, le ritiriamo su con l'acqua. Non so se farlo adesso, ma sì, dai, mettiamole... facciamo così, almeno stanno salve, gli diamo il grano quando vogliamo, che tanto ogni 5 minuti le possiamo dare, poi aspettiamo che crescano i piccolini, questi qua piccolini, e niente, poi ragazzi abbiamo le nostre mucche. Potremmo intanto fare un po', non dico strage qua, perché mi sembra brutto, però potremmo ucciderle un po' per prendere il cuoio intanto, no? Dai, tanto ormai questo è un episodio con le mucche, a sto punto facciamo quello che bisogna fare. Mi spiace, lo so, mi dispiace molto, però va fatto, ci servono i libri, le cose, sì, purtroppo va fatto. Dai, basta, direi che ne abbiamo fatte fuori già un bel po'. Quanto abbiamo? 44 braciole, cuoio 26. Buono, cioè, in realtà, forse ci potrebbe anche quasi bastare, però boh, la farm, dai, ce l'abbiamo, è sempre meglio averla, anche per il cibo, raga, ma vi immaginate quando potremo mangiare le braciole, quanto saremo avvantaggiati. Fidatevi che è tanta tanta roba, cioè, recuperiamo 4, 4 cosciole. Bene, ragazzi, che dire, questa è la nostra farm di mucche, siamo riusciti a fare una farm di mucche, certo, guardando un tutorial, grazie a chi ha fatto questo video, il canale, ve lo ricordo, si chiama Batti5, non è per fare pubblicità o per essere pagato, è solo perché mi è tornata molto utile questa farm, e quindi, ve lo consiglio. Quindi, spero che vi sia piaciuta questa farm, fatemi sapere cosa ne pensate, spero anche vi sia tornata utile. Detto questo, ragazzi, io vi ricordo di lasciar like, commentare, condividere e iscrivervi al canale. Nel prossimo episodio probabilmente andremo in miniera, faremo un po' una miniera, cioè, non per esplorare, è solo per fare appunto le nostre miniere e probabilmente iniziermo a fare anche mob spawner, chi lo sa, non lo so, vedremo poi nel prossimo episodio. Detto questo, ragazzi, io vi ricordo anche se vi siete persi gli altri episodi di questa serie li trovate sempre qua sotto in descrizione, poi nella schermata trovate anche Instagram e TikTok, anche quelli però li trovate sempre in descrizione, seguitemi su entrambi e niente ragazzi, spero davvero che questo video vi sia piaciuto e niente, vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao raga!